Buon pomeriggio ancora e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Traffico regolare al momento su strade e autostrade della nostra regione. Sulla FIPILI materiali dispersi sulla careggiata tra San Mignato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Per i treni oggi e domani 26 novembre, lavori sul fiume Arno in località San Donnino, previste modifiche ai treni ad alta velocità e regionali e prevista anche l'interruzione della circolazione sulla Empoli Siena. Domani domenica torna la Firenze Marathon, previste modifiche nella parte iniziale legata ai cantieri della tramvia in zona Piazza San Marco. Interessati anche i viali di circonvallazione tra Piazzale Donatello e Piazzale di Portalprato, in Ungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio oltre al Parco delle Cascine. E ricordo a Firenze l'inviato lo sciopero nazionale di lunedì prossimo 27 novembre, quindi il servizio della tramvia sarà regolare, la protesta è spostata al 15 dicembre. È tutto, buon viaggio, a più tardi.